Cinque incidenti mortali dal 2009 ad oggi a Montesilvano scoppia la polemica sul transito dei tir in Corso Umberto. Dopo l'incidente che ha visto una quarantenne ricoverata in prognosi riservata dopo un incidente mentre pedalava. Si torna a parlare della variante Anas e della sicurezza dei cittadini. Il problema è quello della variante la strada statale 16 che ha bloccato il suo percorso di rinnovamento all'uscita di Montesilvano. Quello era un progetto che prevede tuttora, perché è tuttora in essere, la prosecuzione fino a Silvi. Quando in realtà adesso con questo blocco che c'è stato, o meglio c'è stato solamente un'apertura parziale, il traffico dei mezzi pesanti è canalizzato sulla nazionale. Quindi con un maggiore afflusso di mezzi aumenta anche il numero di incidenti. Più volte aperta la questione della variante, solleciti da parte del Comune oggi il sindaco di Montesilvano, alle prese con tutti i danni alla viabilità causati da frane e smottamenti del maltempo, teme successivi ritardi nella risoluzione della questione. Purtroppo noi stiamo vivendo dei tempi di crisi senza precedenti, e quindi anche quelle che erano inizialmente delle opere che potevano essere finanziate, adesso prima di ottenere i finanziamenti necessitano di una serie di percorsi attuativi che sono molto lunghi e mi auguro per il bene di questo territorio, per lo sviluppo di questo territorio, che possano arrivare delle risposte quanto prima.